250.000 euro di contributi assegnati all'Associazione Sportiva Accademia di Pattinaggio Pescara. Una buona notizia se non fosse che il denaro è stato erogato dal Ministero nel lontano 2006. Lo scopo, a quanto riportato dal Movimento 5 Stelle, era quello di costruire un palazzetto dello sport, dedicato proprio a questa disciplina. Ed ora, a otto anni di distanza, Gianluca Vacca presenta un'interrogazione parlamentare al Ministero delle Finanze per vederci chiaro e capire per quale ragione ancora non sorga nessun palazzo dello sport. Parliamo di fondi ricevuti nel 2006, dalla finanziaria 2006, a una società, l'Associazione Sportiva di Pattinaggio di Pescara per costruire 250.000 euro per costruire un impianto di pattinaggio, una pista di pattinaggio o comunque un impianto sportivo che da quello che sappiamo noi sarebbe dovuto costruire appunto a Francavilla. Ma invece non c'è nessuna traccia di questo impianto. Quindi noi abbiamo chiesto al Ministero delle Finanze che fino hanno fatto questi soldi, se sono stati appunto incassati come parrebbe e perché non se ne è stato realizzato nessun impianto. La storia si infittisce nel momento in cui viene reso noto che esiste un filo conduttore tra le vicende che avevano interessato alla Federazione Hockey e Pattinaggio Abruzzo, il cui presidente Sabatino Araco era stato condannato in primo grado per la vicenda Sanitopoli. Oggi 5 Stelle scoprono che la presidentessa dell'Accademia Pattinaggio Pescara, accademia con 250.000 euro di finanziamenti già erogati, viene rappresentata dall'allenatrice di Andrea Araco, figlio di Sabatino. Gianluca Vacca ora chiede chiarimenti. Ricordiamo che la Federazione Italiana di Pattinaggio, perché la presidentessa di questa associazione probabilmente è una persona dell'allenatrice dell'attuale presidente della Federazione Italiana di Pattinaggio Araco, sul quale noi già abbiamo fatto molte iniziative, perché è un condannato in primo grado, ricordiamo che secondo noi non dovrebbe più, è indagato per la gestione dei fondi della Federazione di Pattinaggio, perché è indagato dalla procura, prima della Corte dei Conti, adesso la procura, per la gestione di 380.000 euro della Federazione. E la Corte dei Conti già si è espressa contro questa gestione, condannando di fatto Araco.